La strage di Via D'Amelio quest'anno verrà ricordata con una serie di manifestazioni per ribadire ancora una volta il bisogno di verità su quella che viene definita ormai apertamente strage di Stato. E questa sera presso la Facoltà di Giurisprudenza a Palermo, organizzato da Antimafia 2000, si terrà il convegno Paolo Borsellino strage di Stato sulle orme dei mandanti esterni, alla presenza del fratello di Borsellino Salvatore. Intanto, alla vigilia dell'anniversario della strage, spunta sul web un video con la voce di Paolo Borsellino. Era il 1984 e nel corso di una deposizione all'antimafia il giudice chiedeva che senso avesse essere accompagnato solo la mattina. Tra gli atti oggi disponibili risulta la lamentela di Borsellino sulla presenza di una sola auto blindata per quattro persone, un ulteriore materiale che potrebbe portare alla verità, ma prima serve scoprire il tassello principale che si chiama Agenda Rossa. Salvatore Borsellino ha scritto una lettera al Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra. Decine se non centinaia di persone, scrive il fratello di Borsellino, nei meandri e nelle serete di questo Stato, ne sono certo, conoscono dove viene occultata questa agenda, dove vengono occultate le ultime indagini, le ultime parole, gli ultimi pensieri di Paolo Borsellino. Soltanto quando un rappresentante di questo Stato, che ha lasciato crescere nel suo ventre un mostro capace di intavolare con l'antistato, con gli assassini di Giovanni Falcone, un'ascelerata trattativa e sull'altare di questa trattativa ha sacrificato la vita di Paolo Borsellino, si presenterà in Cinocchio, in Via D'Amelio, a portare non ipocrite corone di alloro, simpoli di morte, ma quell'agenda rossa, allora e soltanto allora potrò avere pace.